Buongiorno. Chi siete? Sono qui per un prestito. Cosa volete? Un prestito. Sì, ma quanto? Documenti. Chi siete? Sempre io. Cosa volete? Sempre un prestito. Sì, ma quanto? Documenti. Vabbè, ciao. Cosa volete? Un'altra banca. Documenti. Affidati ad una banca che ti ascolta. Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci. La banca di tutti noi. Chi siete? Cosa volete? Documenti?